oggi vi parlo dei costi e degli obblighi che sarai costretto a sostenere nel momento in cui deciderai di mettere in vendita la tua casa ciao sono paola della paola ciotti immobiliare questi video hanno lo scopo semplicemente di dare delle informazioni in pillole che riguardano la compravendita di un immobile bene iniziamo con il primo adempimento obbligatorio allora la redazione della cosiddetta ape è la certificazione energetica e per questa dovrai incaricare un tecnico abilitato che verrà a fare un sopralluogo in base alla documentazione ai rilievi che effettuerà certificherà qual è la classe energetica del tuo immobile questa classe va da a a g sempre legato ad un aspetto tecnico bisogna controllare che l'immobile sia regolare dal punto di vista urbanistico e catastale ad esempio se la planimetria non corrisponde allo stato di fatto della casa si dovrà intervenire con un permesso che va richiesto al comune questo permesso si chiama c la uscì a secondo dei casi va incaricato sempre un tecnico un tecnico abilitato altro costo che invece dovrai affrontare nel caso in cui ci sia un'agenzia immobiliare è la provvigione il quarto costo invece quello che dovrai sostenere se il tuo immobile deriva da una successione allora supponiamo hai ereditato un immobile scopri il giorno dell'atto che c'è da fare la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità sostanzialmente quando tu hai fatto la successione non è stato portato a termine questo adempimento e ti tocca obbligatoriamente farlo il giorno del roggito davanti al notaio che stipulerà alla compravendita il quinto costo che potenzialmente potresti affrontare è quello derivante dallo svincolo di alcuni parametri legati al tuo immobile per esempio se il tuo immobile è stato costruito in convenzione pep tipo legge 167 forse ne ho sentito parlare che prevede l'affrancazione del bene per poterlo vendere al libero mercato dovrai incaricare un tecnico che consulterà direttamente il comune io in questo caso parlo del comune di roma per avere i conteggi dell'importo che dovrai pagare per ottenere l'affrancazione del tuo appartamento per poterlo vendere al libero mercato oppure se la tua casa invece deriva dalla vendita dell'ater si parla sempre del comune di roma c'è una regolamentazione che obbliga il proprietario a pagare un importo per il riscatto per poter vendere l'immobile il sesto costo che si potrebbe presentare è quello legato alla plusvalenza ti spiego sono passati cinque anni da quando tu hai acquistato la casa decade la plusvalenza se rivendi quindi anche se l'hai pagato 300 mila euro sei anni fa e la rivendi oggi a 500 mila la tassazione sarà nulla se invece sono trascorsi meno di cinque anni ci sono una serie di condizioni per cui potresti dover pagare la plusvalenza oppure no ma sono temi che non riesco a spiegarti con un video di pochi minuti comunque se vuoi puoi contattarmi direttamente per un maggiore approfondimento mi raccomando non devi sottovalutare i tempi per realizzare questo tipo di operazioni in modo tale che nel momento in cui riceverai un'offerta ti troverai nella situazione ottimale per poterla accettare chiaramente senza impegno se desideri maggiori chiarimenti puoi contattarmi al numero di telefono che troverai alla fine del video oppure puoi lasciare i tuoi recapiti sulla mail dell'agenzia e sarai ricontattato spero ti sia piaciuto questo video puoi condividerlo e mettere il tuo prezioso like anzi se ti fa piacere iscriviti al mio canale youtube si chiama paola ciotti immobiliare così rimarrai sempre aggiornato per oggi è tutto e ti mando un saluto ciao ciao